Oggi che giorno è? Qui il 16 16 settembre 2012 siamo nella nostra sala prove siamo qui riuniti a voi aspettando Massimo eccolo qua occhio all'orologio se faccio un calcolo in percentuale delle volte che nella vita sto ad aspettare Massimo copre il 60% nel frattempo una piantina ha rotto il cemento se faccio una media del tempo che gli ci vuole per montare la batteria in sala prove Massimo supera i 40 minuti e intanto i rami sono cresciuti se faccio un conto in generale è più il tempo che la sistema che la sta a suonare Massimo in questo vince su tutti nel mentre nel mentre che l'albero ha fatto i frutti e se per caso glielo fai notare dice oh sì scusa mi devo preparare Massimo certo ma so già due ore l'albero ormai vecchio si secche e muore non è non è non è ma non è Massimo è fatto Eccoci Massimo Eccoci U Ecco Massimo Abbassati Abbassati L'opera è finita Quanto ci ha messo Quanto ci ha messo Questa è da foto Ciao